I problemi della schiena riguardano giovani e anziati. Qui da Officina Fitness abbiamo la soluzione per voi con alcuni esercizi come il front squat. Eseguito con i manubri questo esercizio permette di spostare il focus dalla bassa schiena alla parte anteriore della gamba andando quindi di fatto a rinforzare i muscoli della coscia, dei glutei. Lo stacco rumeno invece è ancora più mirato perché permette di andare a lavorare sui muscoli iscritturali e sui muscoli glutei nonché sui muscoli lombari, muscoli essenziali. Ricordatevi, allenarsi significa salute. Io vi aspetto qui da Officina Fitness.